La mia età, andiamo a dire tranquillamente, settambola nove anni con più! Giovane! I miei amici sono peggiori! Anche l'età lo sappiamo, che è quella che si sente, quella che ho detto di noi si sente. è chiaro che io sto facendo adesso un po' di cabaretista, sto scontendo me stesso perché trovare un'occasione, per dire la propria età, dove tutti questi sono dei ragazzini cioè per me è veramente una grandezza Alessandro e Lara, siete contenti di questo premio? contentissimi ma soprattutto è un'emozione di tornare qui su questo palco come dicevi te Fabrizio noi diamo spazio alle nuove voci quindi facciamo conoscere i progetti di tutte le band emergenti e non che vogliono appunto mettersi alla prova e far conoscere la loro voce a tutti i nostri ascoltatori quindi diamo questo spazio, è una cosa importantissima, rifacciamo